bella a tutti i ragazzi sono rt2gamer oggi siamo con kevin che gioca a best quest sull'ipad sono riuscito a usare il best quest lo vedrete aspetta registriamolo pure la sua faccia allora oggi lui deve sconfiggere voi lo sapete questa è una nuova serie e deve andare esattamente deve andare esattamente in questo puntino dove c'è un boss e adesso vedetevi c'è parte di che è incredibile è molto bello questo gioco se c'è un best quest e lo potete installare gratuito potendo che vi farà dire qualcosa o quando potete però questo è lo scopo del gioco è molto difficile adesso che anche buggato è vero le granate per vabbè è bello che qua ci sono fuori le granate quindi è il triple punto che è molto seria in questo momento ecco aspetta che ti mando io non posso ma prima di cominciare esprimitetevi al canale che ho fatto la campanella e io faccio una magia se voi cliccate il pollice in su che vedete magicamente diventerà una magia ricordo a memoria questa è una nuova serie ho visto che non l'abbiamo iniziato la sicura però l'abbiamo iniziato due anni fa e sono ancora molto scarsi perché mi ha forzato molto di scopo e io ho scopo molto scopo mi ha fatto un po' molto segreto no cosa no no ok va bene odio se no è un gioco molto bello però è un gioco molto giusto qualche cosa stai facendo la guerra un pochino di più che culo si molto cura ok andiamo qua ci dovrebbe essere un passaggio seguire non è qua mi sono sbagliato visto che memoria che ho bene allora non è qua non ci rimane più che bel passato subito che mi fa detto magari c'era ecco noi bisogna passare da la che l'italiano tipo praticamente bisogna passare da lì dentro c'è il box ok signor kevin vada ok vai io volevo fatto la laia stasera ma non ci sono riuscito perché avete raggiunto i cosi di like che ecco tipo adesso eh ma non mi schiva ok non attaccare la calizia metto un po' Oh! Ok, lo spessi da liberare Il cavolo è stesso Ma non è un poccino! Kevin, vado più da me Che buono Che buono Che gioco Quello stesso gioco Ehm, vuoi vedere quanti modi ci sono Eh sì Ehm, dovevano continuare con loro Quale continuiamo? Allora, io Giocherei Facciamo Ma fa schifo? Ma fa schifo? Appunto, siamo forti lì Ma l'abbiamo giocato tutto Ma l'abbiamo giocato tutto Ma l'abbiamo giocato Ma l'abbiamo giocato Allora Ah no Ok Allora Io mi guardo la live in diretta Vai 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 Preparati a fare! Non lo faccio 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 No Aia Ma come ha fatto a prenderti? Ma non me lo chiedere Aia C'è la Che Anche Carissimo Oh Voi non avete idea Di Da qui non sembra Ma questo gioco È difficilissimo Voi non avete idea Io ve lo faccio provare E' uno dei giochi più difficili Dopo far che abbia mai fatto scudo viene rappresentato qui e posso anche indicare che avete detto la vita anche dall'altra parte bravo dovresti sapere questo io faccio questo video attento uno uno e due divindando due per favore così male e dai ma dai mi sapevo le paura guarda 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 come stanno bacati i lupi, hanno un'assamplia sottoterra Vai easy Troppo easy Vai easy Troppo easy, guarda che è un valento Guarda in quanto sei sopravvissuto Chiudi la porta Nooo Quanto cavolo vuoi sperare questa ciotola? E' un altro perché ti imbruglia Tu pensi che vai da un'altra porta e ci si aprirà la porta? Aspetta Oh, se le compiti tutto e poi giù E' un giro 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 Faccio un nuovo video su non fortnite, perchè fortnite lago un po' troppo Credo che sia lui eh? Dici? Non l'avete preso col tesoro Non l'avete preso col tesoro Dio No ma ho detto Ma quanto è detto rispetto ai ganchi? O io al gioco? Che non ho che io Faccio il link se volete, è sotto in descrizione di questo gioco perchè non posso farvi il link e sapete cosa viene con questo gioco Eh no aspetta Vi scrivo solo il nome nel titolo Cosa? Ma davvero? Si Quanto sei andato veloce? 5 secondi Guarda adesso appena lucido Ma ti immagini che questo gioco si può fare anche online? Ma l'hai completato? Allora adesso fai ripare Adesso l'ultima devo riparare la scuola Spreca la colponata Ripare il tuo scudo Spreca la colponata E' dopo 5 anni E' dopo 5 anni Spreca la colponata E' se ma dovremmo cercare Usa lo scudo Spreca la colponata Quindi devo ucciderlo E poi provare il tuo sacco Ma lo fai sei volte Il mio avanti è ancora più Ok Quindi devi conficcere i tuoi pali Oh! Oh no! Che figura! Adesso vediamo la sua casa E con questa casa Se appena finiamo questa missione No, la prossima E poi si chiama da soli Da soli Ehm... Ehm... Condividete questo video dovunque Anche su WhatsApp Così mi seguono in più persone Comunque, ciao! Ehm... E laggiù non ci vai Laggiù ti... laggiù speri che un saldo di scudo Sì è raici per posto Ehm... 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 Ho scelto il tizio Cos'è anche tutto possibile Adesso... Al riposto Adesso qua Ma perché devi fare lo scudo sui saldi? Prego Se lo scudo ha ricavato Parla Sì 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 5 L'ultima E dove è? Ehm... E' uno superlucso 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 Dopo... Anzi dopo va a finire anche... Ehm... Il tizio Ma... E' un po' E' un po' E' un po' Ehm... Tu mogna Quanti veloci? No ti ricordi quanto ero velocizzando oscura? Sì Ti basco il filtro a te? Sì Sì Una volta avevo finito tutto l'annacchile In un giorno da solo E' una garza bella Ehm... Ok va bene Ok guarda A posto E adesso? Se ci va? Adesso non so Guarda... Li apri? Li apri? Eh... Sono quotidiani Per 22 ore Bene Adesso andiamo a prendere tutti i tesori possibili Vai anche là Lì? 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 conto li facciamo male che ha vinto mi ricordo che li toglievo uno di vita una volta conto abbiamo potenziato la squadra no io sto tutti se non l'ho mai sconfitto perché avevo sempre la squadra debole anche quello la sua oggi dovremo prendere più trofei possibili c'è scurito ok fin qui è easy appunto poi ho anche un altro trofeo da farvi vedere trovo la cosa ecco qua e poi qua qua e lì sì 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 c'è l'ambiente fin qua non ci sono mai andate non ci sono mai andate si guarda trofei 34% l'abbia vinto tutto va bene allora io ti dico dove sono le persone allora te apri la mappa chiudi chiudi ti dico dove andare per prendere un trofeo allora un trofeo allora un trofeo aspetta te lo dico io no vabbè torri indietro 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 io lo so lui è prima del pane vicino alla tenda ok vai giù alla tenda sicura ti immagini che risponde dopo l'andiamo a vedere non ho mai visto e quello di scuola quello no dove sta andando torna alla base a essere passata qua vero sì sì no come no il casino ok siamo arrivati allora io ti dico dove dovresti entra a vedere è lì aspetta vai avanti allora è lì no è scomparso aspetta ecco lì è lì è lì lo vedi lo vedi Togliamo il volume dai che dà fastidio. Ok a posto. Adesso ho già preso il volume, sentite solo le nostre voci, è bello. Se sconfiggio la prima, io sto troppando la mia spesa. Mamma mia che difficile è. Se ti pronunciano due volte sei morto. Sei diventato bravo. E' parlato eh. Troppo di scudo. Nooo ho mancato il tasto. Non c'è un tasto. Vabbè adesso vai a prendersi la vita. Quante esperienze avremmo noi per giocare sui giochi. Qua? Qua? No ma dovresti spuonare là? No ma dovresti spuonare. No ma dovresti spuonare. No ma dovresti spuonare. No ma dovresti spuonare la parte. Oggi lo scopo è prendere più tesori. Lo scopo è prendere più tesori. Lo scopo è prendere più tesori. Ecco. Troppo giocherà a me. Ok. Sconfitto questo cane mi seguito. Ma cosa? Non so. Vabbè. Ehm. Aspetta. Questo è il video di Best Quest. Se volete la nostra serie. Lasciate like e commentate. Ehm. Ci vediamo al prossimo video. Bella raga.